Posti di blocco stradali con le pattuglie delle sette compagnie e controlli in acqua con la moto vedetta della Compagnia di Chiari, dal cielo con l'elicottero dell'elinucleo di Bergamo nei locali con i reparti speciali anti-sofisticazione dell'ispettorato del lavoro. Nel fine settimana di ferragosto i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno svolto numerose operazioni in tutto il territorio. In Valle Camonica i militari della Compagnia di Breno hanno posto attenzione in modo particolare alle strade con posti di controllo coordinati dalla bassa all'alta Valle Camonica. Hanno ritirato tre patenti per guida in stato di Ebrezza, Malonno e Daffo, altre patenti ritirate a Calcinato e Gottolengo. Nel mirino dei carabinieri sono finiti però anche spacciatori e disturbatori della quiete pubblica locali che non hanno rispettato le normative anti-covid. A Chiari nella notte di ferragosto è stata chiusa una discoteca dove era stato organizzato un evento danzante al chiuso. A Marone i carabinieri della stazione ed il personale del NAS hanno controllato un lido e contestato una sanzione da 2.000 euro al titolare perché vendeva prodotti scaduti. A San Zeno Naviglio è stato fermato un 34enne che stava danneggiando veicoli in sosta e portati in carcere un quarantenne ed un 35enne che hanno illuso le misure alternative. A Castiglione delle Stiviere tre nei guai per spaccio, due a Castelcovati dove i militari hanno fermato anche un 28enne ubriaco con un coltello in auto mentre danneggiava la cartellonistica stradale con una mazza da baseball. Sempre per spaccio è stato fermato un minore a Pontevico con 50 grammi di asci. A Pompiano è stato denunciato un operaio per rissa, a Desenzano per porto di oggetti atti ad offendere, finito nei guai sempre un minore. Sanzioni amministrative per 20.000 euro sono infine state elevate ad un locale di Lonato del Garda per la cattiva conservazione degli alimenti e per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Il titolare è stato denunciato.